La casa, perché io ti voglio solo aiutare, voglio solo il bene per te. La ragazza ha abbandonato la sua abitazione, probabilmente per un diverbio con la mamma. Se non ti fai aiutare, come faccio io? Le unità Cinopoli si stanno dirigendo sul torrente Santa Venera, che attraversa non solo Giardini Nactos, ma la frazione di Trapitello di Taormina. Tu lo sai che io ti voglio un bene dell'anima, ma fatta aiutare. Ci aspetta una schiarita per far partire in volo gli elicotteri. La sorella diceva torna a casa, ti possiamo aiutare noi. Probabilmente era una situazione di disagio. E se qualcuno per favore ce l'ha, voi non sapete la problematica di Denise. Fatela tornare a casa, per favore riportatelo a casa. Solo questo vi sto chiedendo e basta. Ben ritrovati con Storie Italiane. Ebbene, una bellissima notizia questa mattina, ce l'ha da Mauro Romano della Sicilia. Buongiorno, Denise, la ragazza di 17 anni scomparsa da Taormina è stata ritrovata e portata a casa. A te Mauro, buongiorno. Buongiorno, siamo qua sul alveo del torrente Santa Venera per dare questa bella notizia. La ragazza è stata ritrovata ieri a Giarre. Qua sul torrente Santa Venera c'era stato un grande dispiegamento di uomini e mezzi. Lungo il torrente era stato anche allestito il centro delle operazioni da parte dei vigili del fuoco. Hanno operato anche con l'ausilio degli elicotteri per cercare la ragazza. Ma già da ieri sera, la buona notizia, la ragazza si trovava in una casa di campagna a Giarre e lei stessa poi nella tarda serata ha dato l'annuncio di stare bene sui social. E quindi la grande preoccupazione che c'è stata in questo... Avrebbe parlato anche la sorella, no? Ha fatto un comunicato? Sì, ha parlato anche la sorella. La sorella ha ringraziato tutti quelli che si sono trovati vicini alla famiglia però hanno chiesto di non indagare troppo su quanto sia successo effettivamente perché la ragazza era appunto in una casa di campagna a Giarre. Giarre è un paese della provincia etnea vicino a Taormina e quindi è facile raggiungerlo, non è così difficile. Si trovava in compagnia del suo cagnolino, Jack Russell, che è il suo compagno a cui è molto affezionata e quindi ha reso noto di stare bene. Ora si trova a casa dove da accogliere c'è stata sicuramente la mamma e quindi una storia a lieto fine che ha suscitato molto interesse nell'opinione pubblica locale. In tanti si domandavano dove fosse andata a finire Denise. Non sono interesse ma eravamo tutti, no Mauro, un po' preoccupati. Eravamo tutti preoccupati. Per lei perché erano passati tanti. Ora ci troviamo qui a Giardini Naxos perché la sede operativa delle ricerche era la caserma di Giardini Naxos dei Carabinieri. Infatti ci troviamo qui, oggi non c'è più nessuno perché tutti sono andati via. Fortunatamente è stato tirato un sospiro di sollievo per la sorte di questa ragazza. Ecco, allora, esattamente dove ti trovavi ieri mattina il luogo da cui è partito poi il nostro collegamento? Ci troviamo qua ieri mattina proprio perché la centrale operativa era proprio qua, alla stazione dei Carabinieri di Giardini Naxos, dove c'erano vigili del fuoco, eccetera. Poi, come avevo detto prima, un centro base è stato realizzato nell'area del cantiere del raddoppio ferroviario di Taormina dove si sta realizzando il tunnel del raddoppio ferroviario Giardini Naxos-Fiume Freddo. E quindi là c'era un grande dispiegamento di forze, c'erano le unità... Tornato ovviamente col suo cagnolino? E' stato... E' sicuramente sì, col suo cagnolino un Jack Russell molto carino, devo dire. Per quello che si vede sui social. Ecco, il motivo per cui, Eugenia Alderisio, buongiorno, grazie di essere qui. Rimani collegato con noi, il motivo per cui se n'era andata di casa. Sembra un litigio dovuto proprio a questo cagnolino che lei si è portata via all'inizio. Poi adesso chiaramente andranno ad indagare. Su questo aspetto non si sanno... Allora, la notizia ufficiale che è stata ritrovata, su questi aspetti non si hanno grandi novità. Sicuramente in mattinato sapremo qualcosa di più. Certo, Eugenia. Diciamo che è un fenomeno che ultimamente si riscontra un po' ovunque. Il famoso ghosting, quello di andare via senza dare spiegazioni. Le motivazioni possono essere tante. La difficoltà anche nell'affrontare magari delle situazioni che diventano pesanti anche all'interno della propria famiglia, come ad esempio nell'adolescente. E quindi è molto più facile prendere e andarsene. E questo dà anche un certo clamore. E quindi ritorniamo sui social. C'è tutto un movimento anche interno, narcisistico, di queste persone quando poi le storie finiscono bene, ovviamente come in questo caso. E però, ecco, in questo caso sentiamo i nostri ospiti. Edoardo Tasca, buongiorno Massimo Maffei. Massimo si occupa di cronaca da tanti anni. In questo caso però la sorella Edoardo ha chiesto di... Dice, non chiedete dove era andata, con chi. Adesso indagheranno. L'importante è che queste ragazze di 17 anni, anche noi siamo stati spensati ieri nel dare la notizia, l'importante è che sia tornata a casa. Certo, ho letto questa cosa, però mi ricorda un po' la storia dell'altro ragazzo che era sparito di casa e i genitori avevano detto la stessa cosa, hanno detto l'importante è che sia stato ritrovato, non chiedeteci niente. Io non vorrei che diventasse un po' un luogo comune dei giovani di fare queste cose, sparire per un po' di giorni e poi ritornare, anche perché si smobilita un po' tutto. Ecco. Sai, bisogna, Mauro, bisogna, Massimo, scusami, bisogna capire il motivo per cui lei è andata via di casa, forse qualche problema già c'era stato. C'era già stato sicuramente. L'unica cosa che abbiamo potuto dire era questo cagnolino di colore bianco che lei si è portata via. Questo è l'elemento felice di tutto l'accadimento. Quello che dovremmo ricordare un po' a tutti, approfittiamone io direi, che quando c'è un caso del genere, c'è una scomparsa, la cosa più importante da fare è denunciare subito, immediatamente. Perché tanto più tempo passa, tanto più le cronache ci insegnano che quel rinvenimento sarà difficile, difficoltoso. Dobbiamo ricordare a questi ragazzi che spariscono con estrema facilità, a 17 anni comincia ad essere anche un po' più che adolescente, che il procurato all'arme è un reato penale, per cui attenzione a quello che si fa nella vita. Dunque, fra poco andremo ad Alessandro Politi. Ringrazio, giusto, no? Certo, io sono d'accordo. Non è che possiamo poi pensare che sono tutte bravate, che poi invece succede immediatamente denunciare se scompare. Io sono d'accordo con pensiamo che sono tutte bravate, però non vorrei che i giovani prendano tutto alla leggera e dicono, vabbè, me ne vado via per 3-4 giorni, non faccio sapere niente ai miei genitori. È una preoccupazione. Come? È anche un po' una punizione. Esatto, però... Il punto è che era già capitato un paio di volte precedentemente ed era diventato un po' un'abitudine per questa ragazza. Allora, più tardi, vedete, grazie intanto Mauro Romano, più tardi invece con Alessandro Politi parleremo di Alessia Pifferi, avremo la sorella di...